Afte Ne soffro da quando ero piccola. Temevo l'apparecchio, ma anche le afte sono dolorose. A volte non riesco nemmeno a parlare. Perfino mangiare è diventato un incubo. Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti. Un aiuto per tornare a sorridere. Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo. Rapida la guarigione.